finalmente un'altra donna la seconda di questa lista come sempre siamo pieni di donne come vedete grazie francesca tunesi o tunesi e chi lo sappiamo ti mandiamo un saluto un bacio se la seconda donna una testa ne abbiamo adesso penso un po credibile ragazzi tutti gli altri salsiccia a noi ci piace la salsiccia ragazzi